Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi torniamo a parlare di Kawasaki, parliamo sempre di prezzi e ci occupiamo della nuova Z900 50esimo anniversary, una moto che Kawasaki ha presentato poco tempo fa in occasione dei 50 anni della nascita della serie Z con la Z1 che nasceva nel lontano 1972. Vi ricordo che per l'occasione è uscita questa livrea speciale chiamata 50esimo anniversary che Kawasaki ha inserito sia sulla Z900 che sulla versione anche RS, anche se comunque la livrea è fatta in maniera un po' diversa e anche sulle piccole 650 la Z e anche la variante 650 RS. Però mancava fino a pochi giorni fa l'elemento principale ovvero il costo, adesso sappiamo la moto quanto va a costare, quindi in questo video vi dico effettivamente il prezzo di questa versione sia della full power che della versione anche patenti A2. e secondo me il prezzo è abbastanza corretto, anzi diciamo che secondo me il prezzo fa ingolosire parecchio in quanto costa veramente molto, poco di più rispetto alla versione normale 2022 della Z900 che vi ricordo che va a costare la versione quella più bella, quella Candy Rain Green, quella verde nera oppure quella rossa e bianca va a costare 10.040 euro circa, prezzo a partire da la nuova 50esimo costa poche centinaia di euro in più e quindi secondo me sarebbe sicuramente la versione da preferire anche perché secondo me sarà quella che nel tempo terrà meglio il prezzo. Comunque qui di fianco vi lascio qualche immagine veloce della moto, vi ricordo un po' anche le caratteristiche e poi vi parlo anche di questi prezzi. Per quanto riguarda la moto fondamentalmente è una Z900 2022 quindi a livello di design, a livello di forme, di plastiche, il faro full led o anche le varie caratteristiche tecniche non cambia assolutamente nulla, il motore è sempre lo stesso, potenza coppia ciclistica, strumentazione e anche pacchetto elettronico. Ecco però c'è questa bellissima livrea che richiama la livrea della vecchia Z1100GP chiamata Firecracker o Firecracker Red che è una livrea molto bella, rossa, con alcuni inserti in bianco, grigio o nero con le scritte Kawasaki dorate, molto bella, con il logo Kawasaki dorato sul serbatoio con la scritta anche sui fiancati laterali con Z50 anniversary e anche con la data 1972 2022 più c'è anche la scritta su parafango anteriore, sempre una scritta dorata. Quindi insomma la livrea secondo me è veramente fantastica, sicuramente nettamente superiore però questo è un parere personale rispetto alle colorazioni della versione normale quindi quella nera, quella Candyland Green verde nera e quella rossa e bianca diciamo che se la gioca secondo me è con la livrea verde e nera bellissima della versione SE comunque sia, è veramente una bella moto secondo me già comunque la 900 di per sé è una moto con delle belle forme futuristiche con questo stile su gomi la livrea rossa spezza se vogliamo anche con il classico verde Kawasaki e secondo me ci sta veramente da dio quindi la moto è veramente bellissima e fantastica al di là di questo tutte le caratteristiche che ricevo rimangono invariate rispetto a quanto conosciamo sulla 900 quindi purtroppo niente cambio elettronico per il momento secondo me questo è l'unico difetto di questa moto al giorno d'oggi Kawasaki dovrebbe un attimo secondo me darsi una mossa nell'inserire quanto meno come optional magari facendolo pagare a parte un 300 o 400 euro un cambio elettronico up e down perché sarebbe anche ora le concorrenti permettono comunque di inserire tra gli accessori il cambio elettronico ci starebbe bene secondo me la Kawasaki in virtù del fatto che comunque la 900 è una moto che ha molto successo in giro per l'Europa e vi ricordo sempre che comunque il cambio elettronico non serve soltanto in pista ma serve anche nell'utilizzo stradale molto spesso rende la guida più confortevole discorsi invece caratteristiche dunque vi ricordo velocemente che la moto monta il motore 4 cilindri cilindrata è un 9,48 quindi è un 9,50 con una potenza di 125 cavalli a 9.500 giri e una coppia altissima di 99 Nm a 7.700 giri la moto pesa in marcia 212 kg a secco più o meno 191 kg altezza sella 820 mm un serbatoio da 17 litri il motore ovviamente è un motore omologato Euro 5 per il resto come ciclistica la moto monta un teletro aliccio in acciaio sospensioni con la forcella stirovesciati regolabile da 40 mm impianto frenante con un doppio disco all'anteriore da 300 mm con pinza a 4 pistoncini posteriore singolo disco da 250 mm con pinza a due pistoncini e gommata a 120-180 presente anche l'ABS la strumentazione è uno schermo veramente molto bello TFT con integrato anche il modulo bluetooth quindi si può connettere lo smartphone con la moto pagato elettronico c'è il Kawasaki Traction Control ci sono 4 riding mode dove ce n'è uno anche il rider che ho usato io durante la prova due anni fa dove si possono modificare diversi settaggi del pagato elettronico e addirittura togliere il Traction Control che è appunto la cosa che ho fatto io due anni fa in quel caso però la moto diventa veramente molto cattiva e per gestirla serve esperienza quindi il mio consiglio è evitate il riding mode rider disattivando Traction Control se avete poca esperienza perché poi la moto diventa veramente molto molto aggressiva e poi questo è un po' il pacchetto abbiamo anche i power modes ce ne sono due uno è il full power l'altro invece è il low power ora discorso prezzi dunque la versione quella patente 2 è anche quella meno costosa e come prezzo parte da circa 10.040 euro se invece volete la versione full power va a costare un po' di più ovvero a partire da 10.340 euro capite bene che quindi i prezzi sono tutto sommato assolutamente accettabili alla fine con un 300 euro in più rispetto al costo del 900 2022 avete una moto comunque diciamo anche più con un'importanza con un valore storico per la storia della Kawasaki e che secondo me terrà di più anche valore nel tempo ma soprattutto anche veramente molto più bella rispetto alla versione normale alla fine soltanto 300 euro in più esiste anche la versione quella diciamo più costosa quella chiamata performance titanium in quel caso il prezzo cresce e arriviamo a partire da 11.190 euro per la versione patente 2 quindi quella da 70 kilowatt che si può depotenziare per a2 e poi ripotenziare per a3 e invece 11.490 euro a partire da per la versione quella full power in questo caso la moto ha diversi accessori montati rispetto alla versione normale c'è un copolino maggiorato più grosso c'è lo scarico Akrapovic che fa la parte del leone e c'è anche il coprisella del passeggero questa qua è la versione diciamo top però non lo so il mio consiglio è di valutare bene questa versione in quanto va a costare circa un 50 euro in più rispetto alla nuova Z900 SE però la SE è una moto messa meglio rispetto alla 900 in quanto monta una ciclistica migliore per esempio vi ricordo il mono Onlis S46 e impianto frenante con le pinze Brembo M432 quindi la versione performance ha un prezzo secondo me ecco un po' troppo alto che supera anche il prezzo della SE però la versione invece normale 10.340 secondo me il prezzo è assolutamente ragionevole ed è sicuramente la versione che prenderei io comunque da questo video è tutto non appena sicuramente alla Kawasaki di Pavia arriverà la versione 50esimo anniversary della 900-900RS e anche della 650-650RS vi porterò i classici video dal vivo in concessionaria fatemi sapere nei commenti insomma cosa ne pensate di questi prezzi se trovate comunque siano corretti o che magari siano troppo alti se magari intendete acquistare questa moto durante il corso del 2022 o se insomma possedete magari una 900 e volete farmi sapere un po' come vi trovate la 900 io l'ho provata due volte anzi due o tre volte nel corso di questi anni e mi sono sempre divertito parecchio merito un like se vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale youtube e con lo instagram e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao iscrivetevi al nostro canale